L'immagine è bella nitida, poi, lo vedete bene? Ma fa paura che si fiscate, non traballa, non fa niente, c'è la mia rivela per te. Ma fa paura che si stacchi in controllo. Perché su col velcro, eh? Con l'adesiva. È una piena messa? Sì. Ah, ok. Sì, è un po' rischioso. Un po' rischioso, secondo me. Bravo. Sì, è un bel indietro. No, il massimo, se io la prendo, se la trovo diventa mia, eh. Buono, va. Vado? Sì. 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 Grazie. 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 Grazie.